Aggiornamento di Sheldani del Per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 18 ottobre 2011. Selamat Balik. Torniamo in uno stato di gioia. Si stanno facendo progressi su molti fronti, e abbiamo pertanto avviato le direttive finali che a breve consentiranno di dare inizio ai finanziamenti. Contemporaneamente, abbiamo chiarito alcune incomprensioni avute con i nostri alleati di terra, tramite una serie di incontri. Queste riunioni hanno definito una serie di questioni, che avevano creato esitazioni in diversi gruppi su come procedere per dare inizio agli annunci, e questo ha portato ad alcune modifiche procedurali. Queste incertezze si sono ora risolte, e siamo ora pronti ad utilizzare la nostra tecnologia per accelerare verso la fase successiva, che farà avanzare la vostra nuova realtà. Un altro problema, che ha rallentato le cose è stato il disquisire variegato sui dettagli di come effettuare la divulgazione. Si è discusso inoltre sulle priorità e sul modo migliore per portare a termine la rimozione della cabala oscura. Altri argomenti hanno riguardato i vari aspetti morali e giuridici relativi ai documenti, che porteranno alla resa finale della cabala, e anche questi punti sono stati congiuntamente concordati. In questo modo abbiamo posto le premesse affinché gli oscuri possano procedere, rimuovendo dagli incarichi i loro servitori. Questo momento si è trasformato per noi in una opportunità per ricontrollare tutto ciò che riguarda la divulgazione e il primo contatto. Il sistema politico che governa il vostro mondo è, naturalmente, un costrutto della cabala. Vari gruppi sacri e segreti, stanno definendo le modalità con cui i governi di molte nazioni in Asia, Africa ed in Europa dovranno essere legalmente sostituiti da governi di transizione. Lo scopo ultimo consiste nel rimuovere definitivamente gli ultimi brandelli del controllo oscuro, e di portare al potere gli individui e i gruppi, che si sono impegnati a manifestare la vostra nuova realtà. La divulgazione procederà senza problemi una volta, che si saranno insediati i nuovi governi, e quei gruppi, che si sono a lungo dedicati alla nascita di una nuova consapevolezza, rivolta alla spiritualità, nel vostro mondo. I vostri maestri ascesi hanno predisposto una rete globale, che incorpora i vostri cugini di Agartha e noi. Diversi istituti bancari in varie parti del mondo stanno diligentemente rispettando i nuovi protocolli finanziari internazionali, e queste regole entreranno in vigore a livello mondiale non appena gli oscuri saranno rimossi dal potere. La flotta di primo contatto continua ad ingrandirsi, grazie a nuovi equipaggi umani provenienti dalla nazione stellare. Stiamo ampliando il numero dei mentori appositamente formati, verificando la loro congruenza con il vostro luogo di origine, visto che abbiamo scoperto che tendete ad essere più a vostro agio con un mentore della stella nazione i cui geni ancestrali sono maggiormente presenti in voi. Questo sembra agevolarvi, anche se la maggior parte di voi risulta associabile a numerose e diverse nazioni stellari. Abbiamo intenzione di affrontare questo passaggio finale verso la consapevolezza nel modo più naturale e delicato possibile, ed appena prenderete piena coscienza della vostra nuova identità, sarà possibile per voi iniziare a ricordare le vostre esperienze passate. Gli oscuri, che erano a conoscenza di questo, hanno utilizzato l'importanza della genealogia ancestrale per controllarvi, creando il concetto di gerarchia, facendovi pensare che fossero migliori rispetto ai soggetti più comuni. Nella Prima Era, dominata dagli Anunnaki dopo la caduta di Atlantide, tutti voi siete diventati in questo modo una sorta di incrocio, che è abbastanza ridicolo. Ogni nazione stellare ha sviluppato una cultura unica di cui andare fieri. Noi assistiamo a manifestazioni culturali in tutta la galassia, che rappresentano le varie danze, i canti e i rituali unici di ciascuna nazione stellare. In certi periodi dell'anno galattico, ci riuniamo per guarire e sostenere questa galassia, e diamo il benvenuto all'aggiungersi della vostra nazione stellare a questa favolosa varietà. Sappiamo che state ricongiungervi con gli agartiani, e questo sarà il trampolino di lancio per quello che state per creare. Voi possedete uno dei sistemi planetari più belli della galassia, e quando inizierete ad occupare i regni interiori dei vostri quattro mondi d'acqua, vi integrerete con le energie di ogni pianeta. Si svilupperanno così una serie di possibilità, che si radicheranno, per diventare la cultura della vostra stella nazione, e saremo lieti di condividerli con la vostra partecipazione ai nostri eventi di scambi culturali ed ai numerosi festival. I vostri pianeti diventeranno la sede per ospitare i convegni galattici e intergalattici, che rappresenteranno la storia di questa sezione della Fisicità. Come potete vedere, molte cose vi attendono. Vi giungano le nostre benedizioni. Noi siamo i vostri Maestri Ascesi. Il tempo per le trasformazioni, che vi abbiamo promesso si avvicina. I molti nostri associati, sia nella Terra Cava sia nelle vostre società globali, stanno completando dei compiti specifici per sbloccare le consegne di abbondanza, e per consentire l'investitura dei nuovi governi, gli Oscuri continuano a cercare nuovi modi per sottrarre tutti i fondi possibili, per finanziare le loro azioni e per cercare di rimanere al potere. In precedenza avevamo chiesto alla Federazione Galattica di individuare questi beni sottratti e di recuperarli, ora diverse squadre di collegamento di Agartha si sono assunte questa responsabilità. Per il momento riteniamo opportuno mettere in sicurezza questi fondi, fino a quando gli Oscuri non verranno rimossi dalla vostra società. Gli Oscuri, che sono coinvolte nella realizzazione di questi furti sono stati presi in custodia, e trattenuti in uno speciale ambiente olografico controllato dai nostri associati di Agartha. Esiste una certa quantità di fondi, la cui distribuzione è attualmente ostacolata dagli Oscuri. L'atteggiamento irremovibile di vari governi, alleati con gli Oscuri, evidenzia in modo inequivocabile la necessità di rimuovere questi governi dal potere. In virtù di questo, ci è stato chiesto di focalizzare la nostra attenzione su questo tema. Sono pertanto in corso una serie di azioni coordinate che permetteranno di portare a termine questa attività, decretata dal Cielo, in modo legale ed etico. Stiamo anche ultimando un progetto, che sta rendendo molto chiaro agli Oscuri, che ciascuna delle loro ambiziose strategie tese a contrastare la luce sta fallendo. Fatto questo, potremo finalmente predisporre le consegne globali ed utilizzare i nostri mezzi, legali e di altro tipo per indebolire il vecchio ordine, e per rimuovere i rimanenti servitori degli Oscuri. Molto rapidamente e sulla scia di questo, arriveranno gli annunci e il nuovo governo di transizione. Come potete notare, un confronto intenso sta avvenendo in tutto il vostro mondo, e per l'ultima volta. Gli Oscuri sono una forza imprevedibile e resistente, hanno molti alleati e possono contare su una vasta rete di attività di finanziamento. Tuttavia, questi fondi stanno per esaurirsi velocemente, senza la possibilità di poterli reintegrare. Il nostro compito è relativamente semplice, intendiamo ora utilizzare le risorse legali, amministrative e militari, gestendole nel modo più efficace possibile. Ringraziamo il Creatore per le numerose benedizioni, e per la grazia divina, che ci è stata elargita durante questa missione. Si avvicina il tempo per presentarvi le promesse che vi furono fatte dal cielo. Il vostro imminente benessere e i nuovi governi sono solo un'anticipazione di quello che vi aspetta. Siate pronti e sufficientemente saggi per cogliere queste opportunità, che arriveranno, come un dono da utilizzare per diffondere la Luce in ogni angolo desolato e bisognoso del vostro amato pianeta. Oggi abbiamo continuato con i nostri messaggi su quanto sta accadendo nel vostro globo. Un movimento mondiale per la libertà e la liberazione dalla morsa finanziaria in rapida crescita, e questo è solo un frammento di ciò che si sta preparando. Arriva il momento per un grande salto di consapevolezza. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che le illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Yah, in Siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003 2000-2003 E' una nuova, la 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 nuova,